Le ultime uscite pubbliche prima del ricovere in ospedale le aveva fatte per incitare alla resistenza i ragazzi in sciopero, i lavoratori dello spettacolo e in lotta per i tagli, la gente dell'Aquila. Mario Monicelli lascia anche per questo un vuoto che nessuno potrà colmare e che va oltre le decine di film, i tanti capolavori, la rinascita di Gasman e Lavitti in ruoli brillanti. Un uomo sempre in prima linea, come lo ricorda Stefano Della Casa, amico e storico del suo cinema. Non gli piaceva l'Italia che stava venendo fuori dalle elezioni, dal governo, ogni manifestazione di opposizione lo vedeva sempre presente in fila, però molto caustico e anche molto militante. Tutto sommato se vogliamo anche la sua scelta di morire invece di farsi divorare dalla malattia, se vogliamo anche quella è una scelta di regia, cioè ha deciso di essere il registrato di se stesso fino alla fine. Una vita battagliera, uno spirito che in tanti oggi ricordano i colleghi attoniti, gli eredi riconosciuti come Veronesi e Virzi. Mario Monicelli ha continuato per 60 anni ad essere un riferimento per raccontare l'Italia e gli italiani, uno spirito caustico e ironico preso dalla sua via Reggio, dove era nato nel 1915, anche se poi aveva sempre vissuto a Roma. Sì, il Toscano è più pungente e più diretto, invece il romano è più generale, un po' più pacioccolese, forse con una certa violenza in più. Siccome io poi appartengo a tutti e due, la cosa non so se si è mischiata, spero di sì, ma non lo so. Dal 34 dietro la macchina da presa e poi i grandi film, dai soliti ignoti ad amici miei, dalla grande guerra, Leone d'oro a Venezia, ad un borghese piccolo piccolo, dal marchese del Grillo, ai compagni, alla saga di Brancaleone. Restano i film a raccontarlo e a raccontarci.